Bella a tutti Fortniteers, benvenuti e bentrovati su LeonTube eccoci in questo video per andare a vedere come guadagnare e vincere i premi questi qua, vediamo lo zainetto e andiamo a esaminarli subito e l'emote, il dorso decorativo e l'emote innanzitutto ci sono tanti XP poi abbiamo il conta del tracciatore, il dorso decorativo eccolo qua torniamo un attimo dentro eccolo qua è reattivo poi abbiamo l'emote carica dell'avanguardia e poi tutta una serie di ruote da applicare alle nostre vetture in Fortnite Racing andiamo a vedere come riscattarle allora per lo zainetto, per il dorso decorativo completa 10 incarichi la strada dei campioni mentre per l'emote completa 20 incarichi gli incarichi, li vediamo, sono tutti qua sotto ovviamente andiamo nella pagina degli incarichi eccolo qua, la strada dei campioni abbiamo ripetizioni roboanti elimina 25 giocatori la prima fase ci sono 5 fasi potrebbero essere 25 giocatori per ogni fase oppure potrebbero aumentare oppure potrebbero anche aumentare proprio in classifica a questo punto converrebbe giocare in classifica provare a vedere di fare una vittoria potete farlo in duo, trio o squadra ottieni una vittoria reale mentre sei in squadra quindi anche qui a questo punto conviene andare a giocare in squadra in modo che se si fa una vittoria si fanno tutte e tre gli incarichi in una sola partita si prendono 90.000 XP elimina i giocatori mentre possiedi una corona questo qui va fatto in squadra basta che uno della nostra squadra abbia la corona e bisogna eliminare tre giocatori quindi non è nemmeno difficile più magari avere la corona quindi vincere una partita e poi andare a fare una partita successiva oppure avere in squadra qualcuno che abbia la corona finisci tra migliori 10 in classifica o torneo quindi qui a questo punto andrebbe torneo i tornei sono difficili da vincere comunque staremo a vedere poi abbiamo l'altra sezione tuffi giornalieri danneggia giocatori con armi leggendari o superiori queste sono più facili però sono meno gioca una partita mentre sei in squadra perfetto poi ce ne saranno altri incarichi aggiuntivi domani poi abbiamo per quanto riguarda Rocket Racing dobbiamo completare gli incarichi in la strada dei campioni quindi bisogna completare 20 incarichi e poi abbiamo obiettivi per ogni giorno eccoli qua qui ad esempio abbiamo due incarichi da fare che attiva il turbo 45 volte e termina i giri in Racing in classifica quindi dobbiamo fare 20 giri e poi nei giorni successivi andremo ad attivare altre e altre missioni sembrano per 10 giorni non sappiamo se hanno le fasi vediamo un attimo qui quante ce ne sono disponibili al momento ne abbiamo qui sono 5 6 7 8 9 10 11 12 qui arriveranno 14 già ce ne sono già 14 solo ora quindi va bene queste tutte queste incarichi abbiamo tempo 5 settimane e 3 giorni ancora per poterli completare quindi diciamo che c'è tempo ma come dice il detto chi ha tempo non aspetti tempo quindi iniziate subito a farli danno anche abbastanza XP io adesso vado subito a fare in modalità ok zero costruzioni facciamo classifica e facciamo squadra e vado a fare la mia partita sperando di riuscire a raccogliere i premi il prima possibile se il video è stato tutto e vi è piaciuto mi raccomando un bel mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti ciao a tutti